oggi per la prima volta perché ci tengo a presentare il prossimo video personalmente e non sarà una ricetta ma siccome qualche settimana fa vi ho chiesto attraverso un sondaggio se vi sarebbe piaciuto vedere la mia cucina oggi riaprirò le porte della mia cucina colgo l'occasione per ringraziarvi ringraziarvi tutti perché siete diventati tanti mi seguite con affetto mi scrivete tanti deliziosi commenti e io sono felice di riceverli e di rispondere alle vostre domande di rispondervi semplicemente per un saluto sono felicissima quando leggo che avete replicato con successo la mia ricetta questo per me è fondamentale perché oltre ad occuparmi personalmente della realizzazione della ricetta sono io che mi occupo anche delle riprese del montaggio dei video della pubblicazione insomma di tutto quello che c'è intorno e credetemi non è semplice racchiudere in un video molto breve tutti i passaggi fondamentali di una ricetta e renderla semplice e dettagliata allo stesso tempo quindi quando mi scrivete che avete realizzato una mia creazione con successo per me è una grande soddisfazione perché significa che comunque sto facendo un buon lavoro quindi vi ringrazio nuovamente vi lascio al video e mi raccomando dopo scrivetemi tanti commenti se vi è piaciuta la mia cucina se non vi è piaciuta se cambiereste qualcosa se mi volete semplicemente salutare io sono qui e vi risponderò e adesso vi saluto vi lascio al video e vi aspetto alla prossima ricetta ciao benvenuti nella mia cucina guardate chi è venuto a salutarvi eccola qui lei è minù da qui uscendo sul balcone troviamo un'altra piccola cucina come vedete anche qui c'è un piccolo forno a microonde un piano cottura in vitro ceramica e ovviamente il forno con questo meraviglioso tramonto vi saluto vi ringrazio per aver guardato il video e vi aspetto alla prossima ricetta ciao ciao